E' passato quasi un mesetto da quando abbiamo iniziato, perché questa è la seconda parte di quella prima parte che peraltro chi non l'avesse seguita la può vedere su YouTube, al solito sito resta in zona 6, come accennavo prima, nella prima parte abbiamo parlato dell'idea di viaggio e dell'esigenza direi quasi che l'umanità ha avuto fin da subito di raccontare il viaggio, perché il viaggio è comunque sempre una scoperta, è sempre una partenza da un luogo per andare verso qualche cosa a volte che non si conosce. Quindi questo viaggio che è iniziato fin da subito ha portato ovviamente con sé anche la descrizione di quello che nel viaggio si è visto e quindi chiaramente la nascente letteratura in tutti i popoli ha parlato soprattutto di viaggi, abbiamo visto da Gilgamesh, cioè dai sumeri, per arrivare appunto ai latini, per arrivare poi come dicevo al Settecento con il Grand Tour che era il mito di tutta l'Europa del Nord e siamo arrivati, come accennavo, sulle soglie del Novecento di cui parleremo appunto in questi due incontri oggi e la prossima settimana, perché i libri di viaggio hanno un grande beneficio, quello di farci conoscere città, paesi, continenti anche lontanissimi semplicemente aprendo un libro e come dicevo nel corso dei secoli moltissimi autori con i loro resoconti ci hanno fatto viaggiare in giro per il mondo e a guidarli in questa loro scrittura è stata proprio questa passione quasi viscerale per il viaggio, questa voglia di far conoscere i posti che loro hanno scoperto, che loro hanno amato, cioè di condividere con il pubblico dei lettori questa gioia dell'esplorazione, della scoperta, di quella scoperta di un mondo che in un certo qual senso è diventato il loro mondo, quello che hanno vissuto in prima persona, perché alla fin fine che cosa significa viaggiare? Viaggiare vuol dire proprio anche viaggiare in se stessi, trovare una forza per capire anche se stessi, anche se viviamo in un'epoca in cui i social, i vari Facebook, Twitter e diavolerie varie ci hanno reso praticamente immediatamente disponibili con le foto postate, gli hashtag, a quello che stiamo vivendo in quel momento, il fascino però di scoprire terre lontane, terre sconosciute, a queste radici molto profonde, molto antiche, al punto che appunto la letteratura cosiddetta di viaggio è diventata un genere a sé stante. Il viaggio e la letteratura del resto sono sempre stati una specie di binomio indissolubili, due mondi che si nutrono a vicenda e che costituiscono anche lo spunto, la linfa vitale per ogni viaggiatore. Si può quindi ben dire che qualsiasi viaggio parte da uno spunto letterario e qualsiasi libro scaturisce da un'esperienza di viaggio. Nella letteratura del Novecento il viaggio è l'espressione anche del disorientamento dell'uomo contemporaneo. Cambia infatti profondamente il modo di interpretare il viaggio. Nascono proprio nel Novecento le prime automobili, gli aerei, i transatlantici, le distanze si accorciano improvvisamente e la comunicazione grazie alla radio, al telegrafo, al telefono diventa anche sempre più rapida. Cambia quindi rispetto ai secoli passati, proprio nel Novecento, l'idea di viaggio, perché il viaggio diventa a poco a poco anche qualcosa di emotivo, di psicologico. Così come diceva il grande Marcel Proust, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. E uno che di occhi ne aveva era un polacco, un polacco naturalizzato inglese, Joseph Conrad, che è considerato oggi uno dei principali scrittori della modernità, riconosciuto come uno dei grandi maestri della narrativa. Il suo nome è legato indissolubilmente al mare e all'avventura, addirittura c'è un suo bellissimo libro, una raccolta di racconti di Conrad che si chiama proprio Avventure di mare e di terra. E i suoi romanzi, tantissimi racconti, sono ormai impressi nell'immaginario di tante generazioni. Io faccio parte di una generazione che si è nutrita dei libri di Conrad e ancora oggi è un piacere leggere questo autore che in vita non ha avuto il successo che si meritava, ma come sempre succede a volte, da postumo, è stato molto rivalutato. Conrad, lui in prima persona ha avuto una vita estremamente avventurosa, fu coinvolto nel commercio di armi, in cospirazioni politiche, ha descritto tutto in questi suoi romanzi, ha fatto durante la sua gioventù proprio tutta la carriera in marina, nella marina britannica, perché lui polacco era sfuggito alla persecuzione e al dominio russo della Polonia, aveva trovato rifugio in Francia, poi dalla Francia si era spostato in Inghilterra e è diventato, si è naturalizzato inglese, è diventato un grande comandante di navi, è andato in giro per l'Estremo Oriente, per il Sud America, ha viaggiato in Africa, in India e la sua esperienza da navigante gli ha dato la possibilità di scrivere poi dei libri memorabili, uno per tutti quelli che ho qui riassunto, La Freccia d'Oro, Il Negro del Narciso, Lord Jim, La Follia di Almeyer e tanti altri. Ma lui si è avventurato, forse uno tra i primi, anche nel viaggio più rischioso, in quello che è il viaggio interiore, scrivendo due capolavori assoluti, La Linea d'Ombra e Cuore di Tenebra del 1899. Un fiume grandissimo che appariva sulla carta come un immenso serpente con la testa nel mare, mentre il corpo in riposo formava un'ampia curva su una vasta regione e la coda si perdeva nella profondità della terra. Il limitare di una giungla colossale, di un verde così scuro, da sembrare quasi nero, urlato dal bianco della risacca, correva dritto come tracciato con la riga, lontano, lontano lungo un mare azzurro, il cuo scintillio era offuscato da una foschia strisciante. Il sole era implacabile, la terra sembrava rorida, luccicante per il vapore. Risalire quel fiume era come compiere un viaggio indietro nel tempo, ai primordi del mondo, quando la vegetazione spadroneggiava sulla terra e i grandi alberi erano sovrani. Un corso d'acqua vuoto, un silenzio assoluto, una foresta impenetrabile, l'aria calda, spessa, greve, immota. Non c'era gioia nello splendore del sole. Deserte le lunghe distese d'acqua si perdevano nell'oscurità di adombrate distanze. Sui banchi di sabbi argentati, i popotami e i coccodrilli si crogiolavano al sole, fianco a fianco. Negli slarghi, le acque scorrevano in mezzo a una moltitudine di isole boscose. Ci si perdeva in quel fiume, come in un deserto, fino a sentirsi stregati, tagliati fuori per sempre da quello che si era conosciuto un tempo, in qualche luogo lontano, lontano da lì in un'altra vita, forse. C'erano momenti in cui il proprio passato riaffiorava, come capitava talvolta quando si ha un momento da dedicare a se stessi. Ma veniva in forma di sogno, inquieto, rumoroso, ricordato con stupore tra le prorompenti realtà di quello strano mondo di piante, di acqua e di silenzio. E questa immobilità di vita non assomigliava affatto alla pace. Era l'immobilità di una forza implacabile che covava un qualche insondabile disegno. Vi guardava con un'aria vendicativa, piena di risentimento. E noi, noi che c'eravamo avventurati là dentro, cos'eravamo ormai? Avremmo saputo padroneggiare quella cosa muta o non essa ci aveva in suo potere. Sentivo quanto immane, quanto tremendamente immane fosse quella cosa che non parlava e che presumibilmente era anche sorda. Le lunghe strade d'acqua si aprivano davanti a noi e si richiudevano al nostro passaggio, come se la foresta, pigra e tranquilla, avesse scavalcato l'acqua per sbarrarci la via del ritorno. Penetravamo sempre più a fondo nel cuore della tenebra. Regnava una grande quiete. Vedete che Conrad è inutile dire altro, basta leggerlo per capire che grande scrittore era. Invece un'altra scrittrice, archeologa, politica, spia britannica, Gertrude Bell, è una donna che ha avuto mille vite e che ribellandosi un po' al futuro di ragazza della buona famiglia inglese, si laurea all'Università di Oxford e parte e se ne va in Persia, a Teheran, dove il suo zio è ambasciatore. E qui scopre e rimane folgorata dall'Oriente che è a maglia con i suoi segreti, con la vastità dei suoi spazi. Da qui non si fermerà mai più, facendo una carriera diplomatica che la porterà a collaborare addirittura con il mitico Lawrence d'Arabia, prendendo parte proprio anche lei in prima persona alla rivolta araba. Le molte spedizioni le faranno conoscere quel territorio sempre più nel profondo e scriverà un libro, un libro che per gli amanti della letteratura di viaggio è un libro fondamentale, che si chiama appunto Viaggio in Siria, pubblicato nel 1911 e che non è soltanto un reportage di inizio novecento, che è fondamentale per chi fa anche giornalismo di viaggio, ma è fondamentale anche perché è pieno di emozioni di questa viaggiatrice appassionata che fa anche considerazioni sulla politica medio orientale dell'epoca. E leggendo questo libro oggi, conoscendo ovviamente le sorti che questo tormentato paese ha avuto anche recentemente, sembra quasi appunto di leggere qualcosa di stretta attualità. E mi piacerebbe ricordare le parole di un'altra grande donna, Emily Dickinson, che scriveva «Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane». E giusto la letteratura di viaggio ci aiuta proprio a quello, a viaggiare velocemente verso i punti più lontani. E di terre lontane ne sapeva qualcosa anche Robert Byron, una personalità molto eccentrica, dai gusti raffinati, sempre un britannico storico dell'arte, che scrisse opere anche innovative sulla civiltà bizantina e sull'architettura islamica. Ma che noi dobbiamo ricordare in questa sede per un suo capolavoro della letteratura di viaggio, che anche questo è di estrema attualità, perché «The Road to Oksiana», ma «Oksiana» non è nient'altro che l'attuale Afghanistan. Questa via per l'Oksiana è stata pubblicata nel 1937, ma descrive l'esperienza diretta di Byron in questa regione di migliaia di chilometri nell'Asia centrale e poi il suo viaggiare per l'altopiano iranica in quella terra dei sogni chiamata appunto Oksiana, in parte semideserta, popolata da un popolo antico che un tempo era considerato la sede del paradiso terrestre. Ma, visto che stiamo elencando autori, abbandoniamo un po' i britannici e andiamo invece in Sud America, dove c'è un cileno di nascita e di vita, Francisco Coloane, che ha viaggiato molto, ha condotto una vita estremamente avventurosa, spingendosi nelle regioni più meridionali del continente americano, tanto che era stato definito da un altro scrittore sudamericano, Alvaro Mutis, il Jack London dei tempi moderni, perché lui è stato entusiasticamente votato al viaggio e ha governato un'assienda nella Terra del Fuoco, ha partecipato a ricerche petrolifere nello stretto di Magellano, ha navigato per anni a bordo di una baleniera e nel 1940 ha iniziato a scrivere tutte queste sue esperienze. I libri di Coloane parlano di avventurieri, ballenieri, cercatori d'oro, esploratori, ecco perché è vicino al Jack London con le sue avventure nello Yukon, nel nord del continente nordamericano. Lui invece appunto nel sud del Sud America racconta di storie ai confini del mondo e parla di quei personaggi che ha conosciuto in queste zone estreme. I suoi libri sono riflessioni su queste sue esperienze, il suo più famoso è Capo Horn, poi tanti altri libri, tra cui un'autobiografia, Una vita alla fine del mondo, che racconta un po' questa sua esperienza e il libro forse più conosciuto anche in Italia è Terra del Fuoco, del 1956. Fuori la notte era buia, il tempo incerto. Damaso Ramirez restò per un po' in coperta facendo vagare lo sguardo intorno come sua abitudine prima di andare a dormire. Un faro lampeggiò da uno degli oscuri strapiombi del Passo dell'Indio. Le isole, come una flottiglia di ombre più dense, si sparpagliavano a est. Al secondo piano della stazione radio si scorgeva una finestra illuminata, un particolare insolito in quel paesaggio desolato. Al di là della stazione, alle falde di una montagna che arrivava giù fino al mare, si intuiva la presenza delle tende di pelli degli Al-Al-Kuf. Un'altra goletta per la raccolta di mitili era all'ancora, all'entrata della Baia Malacca e verso nord-est le luci di un accampamento di raccoglitori di molluschi davano un po' di vita a quel luogo selvaggio. Da buon cacciatore di balene, abituato a prevalere sulla grande bestia dei mari, pensava che per quanto l'uomo fosse arrivato a dominare la natura, non riusciva ancora a dominare la propria di natura. Guardò il mare, le acque diventavano ancora più scure ed agitate dopo il passaggio di un temporale che scendeva dalle montagne dell'Ovest, quassava le isole e si spegneva sulla vasta imboccatura del canale. Guardò i monti, erano per metà ricoperti di neve e l'unico biancore in quella notte buia, le nevi eterne sulle vette, il cui chiarore diventava comunque vago, sfumato, perdendosi nell'oscurità. Cercò in cielo, come faceva sempre, la sua amica costellazione, quella che in tante notti da cacciatore in alto mare gli indicava la sua posizione sulla terra, persino la rotta della navigazione. Non riuscì a scorcere una sola stella. Anche la croce del sud era nascosta dalla bassa coltre di nubi nere e indistinte, come se una mano demoniaca avesse imbrattato il cielo intero con un nero fumo più denso del carbone. Levò il pugno chiuso verso quel cielo in forme, quasi volesse minacciarlo e ripetè due o tre volte ingoiandosi le parole per l'angoscia cielo, cielo, come puoi permettere tutto questo? E imprecando tra i denti si infilò nel boccaporto che conduceva la sua cabina, sparendo come se fosse stato inghiottito da una tomba galleggiante. Ma per ritornare nel Regno Unito, che non è una novità per quanto riguarda la letteratura di viaggi e forse la letteratura britannica, quella che ha dato di più nel Novecento, tra i più grandi scrittori di viaggio del Regno Unito, dobbiamo pensare a Sir Patrick Lee Fermor, un viaggiatore intrepido, appassionato, la cui fama letteraria è legata proprio ai tanti viaggi che lui fece in Grecia, un paese che Fermor amò in maniera viscerale, totale, dove decise addirittura di stabilirsi. Grande appassionato di mitologia, studioso di classici greci e latini che influenzarono molto anche la sua scrittura, Fermor si distinse anche come soldato durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono imperdibili alcuni suoi libri che sono veramente dei gioielli della letteratura di viaggio. Uno per tutto, per tutti i mani, Viaggio nel Peloponneso, un libro del 58, e una trilogia scritta tra il 1977 e il 2013 che ha come titoli Tempo di regali fra i boschi e l'acqua la strada interrotta. La strada interrotta è interrotta nel titolo ma anche nella stesura perché purtroppo lui è morto prima di riuscire a finire questa sua ultima opera. Questa trilogia è dedicata a quel viaggio che lui appena diciottenne fece in Europa quando il nazismo incominciava a prendere corpo. Viaggia a piedi partendo dall'Olanda per arrivare ad Istanbul. A rendere speciale quindi questi libri è questo suo entusiasmo da ragazzo che si lascia alle spalle la giattezza della famiglia per andare all'avventura affamato di nuove scoperte e di una vita nuova. Dorme dove capita ospitate in case aristocratica così come in fienili o in capanne di pastori e la sua filosofia di viaggio è stata anche la sua filosofia di vita. Le stelle sono incredibilmente fitte a guardare il cielo ti senti miliardario. Se invece andiamo al di là dell'Atlantico dobbiamo parlare di un mito di uno scrittore e considerato forse uno dei massimi scrittori del novecento americano il padre indiscusso della Big Generation Jack Kerouac una personalità carismatica polietica arrivato agli onori della cronaca per le sue opere letterarie che ai tempi avevano creato molto rumore e che erano fra l'altro delle opere ispirate proprio dai suoi viaggi in lungo e largo per gli Stati Uniti citerò qua appunto quelli che vedete i sotterranei i vagabondi del Dharma vero e proprio Vangelo per la gioventù di quegli anni e Big Sur la sua opera però più conosciuta quella che è legata immediatamente al suo nome è On the Road sulla strada un manifesto per intere generazioni di giovani viaggiatori in cerca di libertà non solo del corpo ma anche dello spirito On the Road è un romanzo autobiografico che non lascia spazio ad alcun dubbio sulla centralità del viaggio come condizione inequivocabile per una formazione umana ed artistica viaggiando con il nome di Salt Paradise che non è nient'altro che l'alter ego dell'autore il libro ci descrive il viaggio di Paradise in autobus in autostop tra città evocative come New York Denver San Francisco Chicago e sullo sfondo di queste esterminate highways dell'America e del Messico degli anni 40 del 900 la storia infatti come dice il titolo è un racconto di viaggio di questo stare perennemente sulla strada di questa voglia di cercare nel viaggio se stessi ma anche di meditazioni su ombre più cupe più pesanti come quelle della morte il principio del nostro viaggio fu pioviginoso misterioso potevo capire che tutto stava per diventare una gran saga della nebbia urrà urlava Dean ecco che andiamo e si ranicchiava sul volante lanciava la macchina come un bolide era tornato nel suo elemento ognuno di noi poteva vederlo tutti eravamo felici ci rendavamo conto che stavamo abbandonando dietro di noi la confusione e le sciocchezze compiendo la nostra unica e nobile funzione nel tempo quella di andare e come andavamo saettavamo oltre i misteriosi segnali bianchi nella notte in qualche punto del New Jersey che dicono sud con una freccia o ovest con un'altra freccia e prendemmo a caso quella del sud New Orleans ci bruciava il cervello dalle sporche nevi di quella gelata città di pederastri che è New York come la definiva Dean giù verso il verde verso gli odori fluviali della vecchia New Orleans fino al fondo dell'America lavato dall'acqua e poi a ovest e stava nel sedile di dietro Mary Lou e Dean e io sedevo davanti e facevamo la più calorosa chiacchierata sulla bontà e la gioia della vita Dean tutto a un tratto si fece tenero adesso diavolo guardate un po' tutti voi dobbiamo ammettere che ogni cosa va benissimo non c'è necessità al mondo di preoccuparsi infatti dovremmo renderci conto cosa significherebbe per noi capire che veramente non siamo preoccupati di niente ho ragione fumo tutti d'accordo eccoci qua siamo tutti insieme e cosa abbiamo fatto a New York avevamo avuto tutti i nostri dissapori laggiù siamo diretti a New Orleans per vedere il vecchio Bull Lee e non sarà una festa questo state a sentire vi prego questo vecchio sax tenore che suona come un dio alzò il volume della radio fino a far vibrare la macchina e ascoltatelo ascoltatelo mentre racconta la sua storia esprime il vero rilassamento la vera conoscenza saltammo tutti di gioia per la musica fumo tutti d'accordo la purezza della strada la linea bianca nel centro dell'autostrada si svolgeva e abbracciava la nostra ruota anteriore sinistra come se fosse incollata al nostro battistrada Dean protendeva il collo muscoloso coperto dalla sola maglietta nella notte invernale e lanciava la macchina come se fosse un razzo ma perché pensare a questo con tutta quella terra dorata davanti a te e tutta una serie di imprevedibili avvenimenti che ti aspettano in agguato per sorprenderti e farti felice di essere vivo di quella vita di cui tu potevi assistere ma stando sulla strada nelle cartine americane di una volta quando ancora si usavano le cartine le strade principali erano indicate in rosso e poi c'erano le strade secondarie che erano indicate in blu come forse riuscite a scorgere lì nella diapositiva a sinistra in alto vie che passavano queste strade blu per località località più o meno anonime William List Moon scelse a un certo punto quelle strade per vagare in libertà tra praterie e villaggi in questa america sconosciuta e poi tornandosene a casa nel 1982 scrisse quello che è il suo capolavoro assoluto e che si intitola appunto strade blu rimasto senza lavoro senza una compagna negli anni settanta William decide di ritrovare l'amore per la vita in un itinerario circolare su un furgone un furgone che lui ha ribattezzato ghost dancing quindi lo spettro della danza va dalla Colombia attraverso tutti gli Stati Uniti andata e ritorno guidando esclusivamente su quelle strade secondarie sono tre mesi di viaggio per 20.000 chilometri e il libro è un vero e proprio reportage giornalistico un racconto on the road che ci fa esplorare un'America diversa dal solito non quella delle grandi città o delle mete turistiche ma un'America del tutto periferica ancora rurale che già al tempo stava per scomparire schiacciata dal progresso un'America però molto ben radicata in questo immaginario sentimentale fatta di drugstore ai margini del nulla fatta di strade isolate per lo più deserte che si snodano solitarie per migliaia di chilometri quella profonda provincia americana fatta però di quelle persone che William incontra lungo la strada persone le più disparate stravaganti che ognuno a modo suo diventa protagonista di un momento di passaggio durante questo vagabondare per strade secondarie ma chiaramente ci sono altri personaggi anche in altre nazioni che hanno fatto del viaggio lo scopo della loro vita e va citato anche un francese Domenic Lapierre viaggiatore scrittore e soprattutto conosciuto più che altro come filantropo lui nel 1948 semplice diciassettenne liceale parigino decide di affrontare una sfida che tutti credono sia impossibile fare un viaggio negli Stati Uniti in cui poi aggiungerà Messico e Canada con in tasca soltanto 10.000 franchi francesi dell'epoca quei 10.000 franchi che ha ottenuto per una borsa di studio inizia quella che diventerà l'esperienza fondamentale fondante di tutta la sua vita è l'inizio di una vita da viaggiatore che lo porterà a scrivere tantissimi libri come Parigi Brucia del 64 mille soli del 97 un dollaro mille chilometri nel 2002 o addirittura c'era una volta l'Unione Sovietica del 2005 anche se il suo nome è strettamente legato a un altro libro un libro sull'India una delle nazioni che diventeranno lo spirito stesso della vita di Dominique è il famoso La città della gioia pubblicato nel 1985 City of Joy è il nome anche dell'associazione benefica che Dominique Lapierre ha creato e ancora oggi questa associazione i ricavi rivenienti appunto dalle vendite dei tanti libri di Dominique Lapierre vanno a questa associazione che aiuta i poveri del subcontinente indiano tra i più grandi viaggiatori ovviamente si trovano anche per necessità i giornalisti e tra i molti giornalisti bisogna citare una vera e propria leggenda del settore questo signore che ha un nome sempre difficile da pronunciare perché è uno scrittore e viaggiatore polacco che è considerato uno dei più importanti reporter del novecento si chiama Ryszard Kapuscinski e non so se qualcuno di voi sa il polacco quindi probabilmente avrò pronunciato male questo nome impossibile per decenni Ryszard viaggia come corrispondente di guerra dall'Asia all'Africa in piena decolonizzazione in America Latina nell'Unione Sovietica raccoglie tutte le testimonianze in una serie di libri una ventina che raccontano di mondi desolati di realtà lontane a volte addirittura lontanissime capuscinski è uno scrittore appassionato un grandissimo viaggiatore ma è soprattutto un vero e proprio indagatore delle realtà come confesserà lui stesso nel suo libro autoritratto di un reporter il viaggio a scopo di reportage esclude qualsiasi curiosità turistica esige un duro lavoro una solida preparazione teorica e la conoscenza del terreno su cui ci si muove i suoi libri se li leggerete mai vi rimangono impressi nella memoria non si tratta soltanto di grandi reportage ma il suo talento gli valsi addirittura una candidatura al Nobel per la letteratura tra i suoi libri di grande successo bisogna ricordare Il Negus del 1983 una descrizione della figura quasi mitica del Negus che in un certo qual senso leggendo questo libro ridimensiona e di molto il personaggio oppure Prima guerra del football del 1990 Imperium del 1993 e Se tutta l'Africa del 2006 rimanendo in Africa una delle sue opere più importanti è Ebano collage di storie e personaggi del continente africano che rimarrà il più grande amore di Richard Kapuscinski un continente quello africano che è in oceano e cosmo variegato grazie a tutte le persone che lo abitano e tutti quelli che lui incontra durante il suo cammino da cronista da cronista appassionato che descrive il continente nero al di là di ogni stereotipo l'Africa viene descritta tra storia magia ritualità ma anche descrive i tremendi contrasti la miseria e la bellezza disarmante dei suoi paesaggi ma chiaramente i protagonisti del libro sono i personaggi che Kapuscinski incontra e quindi ci racconta paesi come l'Etiopia la Nigeria il Ghana il Sudan il Senegal il Ruanda ognuno con le proprie le proprie tradizioni culturali le proprie credenze le proprie tradizioni questi viaggi che lui ha fatto in Africa e l'hanno diciamo convinto della bellezza di questo continente di questa immensa e misteriosa anima di cui lui attraverso le parole ci descrive ancora magistralmente sono qui da una settimana tento di conoscere Acra Acra è un villaggio della giungla moltiplicato e ingrandito arenatosi su un golfo di Guinea Acra è povera piatta fatta di case a piano terra con qua e là qualche edificio più alto niente architetture ricercate niente lussi né sfarsi pareti intonacate di giallo pastello di verde pallido coperte di macchie di umidità una collezione di sgorature che ora rinfrescate dalla stagione delle piogge formano un mosaico di costellazioni un interminabile collage di segni arabeschi mappe fantastiche il centro della città è fitto di costruzioni traffico calca frastuono la vita si svolge completamente nelle strade delimitate ai due lati da scoli di fogne a cielo aperto non esistono marciapiedi sulla carreggiata automobili che circano tra la folla una fiumana di passanti auto biciclette carretti di facchini capre mucche che avanzano tutti insieme le donne pestano la magnoca arrostiscono sul carbone tuberi di taro cucinano pietanze vendono gomme da masticare biscotti aspirina lavano e asciugano la biancheria tutti in strada tutto in vista quasi vigesse l'obbligo di uscire di casa alle 8 del mattino e di riversarsi nelle strade ma la ragione vera è un'altra le abitazioni sono piccole misere anguste si soffoca non c'è non c'è corrente l'aria è pesante l'odore nausea bondo manca il respiro inoltre rimanendo per strada dalla mattina alla sera si partecipa in qualche modo alla vita sociale le donne parlano continuamente tra di loro gridano gesticolano e poi ridono piazzate davanti a una pentola o una catinella godono di un punto d'osservazione privilegiato che permette loro di controllare i vicini i passanti la strada ascoltare liti pettegolezzi vedere quel che succede si passa la giornata all'aperto in movimento sempre e comunque tra la gente ma l'Africa ha stregato moltissimi viaggiatori di conseguenza anche molti scrittori una per tutti una figlia di una nobile famiglia danese Karen Blixen che si trasferisce in Africa insieme al cugino nonché fidanzato un barone con cui poi poco dopo si sposa comprano una piantagione di caffè sugli altipiani vicini a Nairobi in Kenya e lei ama talmente questa terra che decide dopo il divorzio di rimanere nel 1925 fino a quando la crisi del caffè non la costringerà a tornarsene in Europa la Blixen in questo suo vero e proprio capolavoro di cui è stato tratto il famoso film con mi sembra Robert Redford in questo libro La mia Africa la Blixen descrive il continente nero in tutta la sua bellezza in tutti i suoi colori è un romanzo del 1937 e ci permette letteralmente di viaggiare con lei nella bellezza dei paesaggi africani incontriamo gli indigeni così diversi dai bianchi coraggiosi dominati dall'amore anche per la sfida del pericolo e infatti questi indigeni non temono l'ignoto ma vedono nel destino quasi un amico un amico cui affidarsi per sempre quello che colpisce la Blixen è proprio questo loro approccio molto rispettoso e si pensa si pensi poi all'epoca in cui questo romanzo è stato scritto cioè nel 1937 gli uomini civilizzati non sanno più cos'è la vera calma e devono prendere lezioni dal mondo selvaggio prima che quel mondo li possa accettare ma permettetevi di parlare di un vero e proprio mostro sacro della letteratura di viaggio per quanto mi riguarda è l'autore con cui mi sono avvicinato a questo genere un ennesimo giornalista fotografo e viaggiatore britannico Bruce Chatwin un vero e proprio cult che ha messo al centro delle sue opere il viaggio e il nomadismo Chatwin aveva studiato archeologia all'università di Edimburgo divenne critico d'arte collaborerà per parecchi anni con la casa d'aste di Sotheby's e ricevendo incarichi che lo porteranno a viaggiare in tutto il mondo si formerà anche come grande autore il più leggendario degli scrittori di viaggio del novecento divenne un vero e proprio mito che rivoluzionò per sempre la letteratura di questo genere già con il suo primo libro del 1977 che semplicemente si intitolava In Patagonia che non è nient'altro che il diario il diario di sei mesi di viaggio attraverso quelle remote terre australi tra Argentina e Cile sulle tracce di un presunto antenato marinaio Cetuin parte quindi alla ricerca delle proprie radici condividendo in numerosi divagazioni di tipo storico e scientifico tutte le sue esperienze racconta le sue scoperte e racconta queste come tappe di un percorso che a poco a poco ci coinvolge e ci fa assaporare questo romanzo in cui cerchiamo ogni volta che lo leggiamo quasi di rifugiarci da Usuai da Usuai all'estanza del Bridge a Habazon c'erano 35 miglia di cammino lungo il canale di Beagle all'inizio per qualche miglio la foresta scendeva fino alla spiaggia e attraverso i rami vedevi il verde scuro dell'acqua i nastri violacei delle alghe che affioravano e fluttuavano con la marea più oltre le colline si allontanavano dal mare facendo posto a pascoli di erba tenera punteggiata da margherite e funghi sulla battigia c'era uno spesso strato di frammenti di legno sbiancati dal mare e a volte un relitto di nave o una vertebra di balena dagli scogli imbiancati dal guano si levavano in volo cormorani e oche marine suscitando baleni bianchi e neri e a largo volavano colombi e anatri e lontano nello stretto albatri fuliginosi che ruotavano senza sforzo simili a coltelli volanti era buio quando arrivai zoppicando al distaccamento della marina militare argentina a Almanza un posto sperduto dove erano confinati due marinai che passavano le giornate a controllare con il binocolo i cileni ma la loro radio era rotta e non potevano riferire quello che avrebbero visto uno veniva da Buenos Aires e raccontava barzellette oscene l'altro era un indio ciaco e sedeva ragomuttiolato senza dire una parola con lo sguardo fisso sulla braccia del fuoco arrivandoci da terra si poteva scambiare Aberton per una grande tenuta delle Highlands scozzesi coi suoi recinti per le pecore solidi cancelli torrenti ricchi di trote color torba la estanzia del reverendo Thomas Bridges era situato lungo la costa occidentale della piccola baia di Aberton riparata dalle tempeste da una bassa collina i suoi amici avevano scelto il posto e lui lo aveva chiamato col nome del villaggio di sua moglie nel Devonshire la casa importata molto tempo prima dall'Inghilterra era di lamiera ondulata dipinta di bianco con finestre verdi e il tetto di un rosso sbiadito dentro conservava il mobilio di mogano massiccio l'impianto idraulico l'onesta apparenza di una canonica vittoriana Clarita Goodhall la nipote del missionario era sola in casa la bambina seduta sulle ginocchia del capitano Millward aveva ascoltato le storie di mare mi diede una copia del dizionario Yagant di Thomas Bridges che mi mise a leggere sulla veranda i fiori di un giardino all'inglese sembravano risplendere di una luce quasi interna un sentiero portava un cancelletto sormontato dall'arco di una mandibola di balena il fumo del cammino veniva sospinto sull'acqua nera e sulla sponda lontana le ocche gridavano Chakwin ha uno stile così asciutto con grandi digressioni un diario focalizzato non tanto sui luoghi ma più sulle persone che incontra sulla storia dell'esplorazione sudamericana da Buenos Aires alla terra del fuoco racconta il suo viaggio alla scoperta di un posto magico mutevole che lo porterà a conoscere vite diverse e anche sorprendenti già molto tempo prima che uscisse appunto in Patagonia aveva cominciato però a lavorare a un libro cosiddetto nomade di cui rimane traccia nei tanti suoi tacuini a cui aveva affidato le sue impressioni e i suoi pensieri Chakwin aveva un solo chiaro obiettivo come scrive nei suoi diari la domanda a cui cercherò di rispondere è la seguente perché mai gli uomini invece di stare fermi se ne vanno da un posto all'altro continuamente e quindi lui si dedicherà a scandagliare di persona questa inquietudine che diventa quasi una preoccupazione mermorbosa per ricercare le radici e questo libro questo libro nomade non vedrà mai la luce anche per la prematura scomparsa dell'autore ma molte delle sue riflessioni confluirono in quello che è un altro dei suoi grandi capolavori Le vie dei canti un vademecum per affrontare l'Australia e la cultura aborigina Le vie dei canti è un libro del 1987 e ci fa conoscere in prima persona questo immenso continente un continente già lontano di per sé ma che attraverso le parole di Chatwin acquista forse una distanza ancora maggiore un altro pianeta il titolo Le vie dei canti è proprio dal pensiero degli aborigini per cui la loro terra è un vero e proprio labirinto di vie che vedono soltanto i loro occhi da qui vagano alla continua ricerca dei percorsi degli antenati ed è così che tra ricerca antropologica esplorazione diario di viaggio Chatwin ci porta alla scoperta di un popolo di una cultura millenaria di questo suo stretto rapporto con il territorio questo territorio immenso selvaggio e per molta parte in ospitale un vero e proprio trattato da parte di Chatwin su che cosa spinge l'uomo a conoscere a spostarsi a viaggiare gli aborigini in generale erano convinti che tutte le merci fossero potenzialmente nocive e che avrebbero danneggiato i loro proprietari a meno che questi fossero perennemente in movimento le merci non dovevano necessariamente essere commestibili né utili nulla piaceva di più alla gente che barattare cose inutili o cose che poteva procurarsi da sé piume oggetti sacri cinture di capelli umani lo so lo interrupi qualcuno barattava il suo cordone umbilicale addirittura vedo Chatwin che ti sei documentato le merci proseguì dovevano piuttosto essere considerate fish di un gioco gigantesco il cui tavolo era il continente intero e i giocatori tutti i suoi abitanti le merci simboleggiavano intenzioni commerciare ancora incontrarsi di nuovo stabilire frontiere combinare matrimoni cantare danzare condividere risorse e condividere idee una conchiglia poteva passare di mano in mano dal mare di Timor alla Gran Baia lungo strade tramandate dal principio dei tempi e queste strade correvano lungo la linea di immancabili pozzi naturali i pozzi allora a volta erano centri rituali dove si radunavano uomini di tribù diverse per quelli che chiamate corobori croborili chiamate voi rispose noi no d'accordo a noi vuoi dire che un itinerario degli scambi passa sempre per una via del canto l'itinerario degli scambi è la via del canto perché sono i canti non gli oggetti il principale strumento di scambio il baratto degli oggetti è la conseguenza secondaria del baratto dei canti prima dell'arrivo dei bianchi continuò in australia nessuno era senza terra perché tutti uomini e donne ereditavano in proprietà esclusiva un pezzo del canto dell'antenato e la striscia di terra su cui esso passava i versi erano come titoli di proprietà che comprovassero il possesso di un territorio si poteva prestarli a qualcuno in cambio si poteva farsene prestare degli altri l'unica cosa che non si poteva fare era venderli o addirittura sbarazzarsene se per esempio gli anziani di un clan del pitone variegato decidevano che era tempo di cantare il loro ciclo di canti dall'inizio alla fine inviavano messaggi lungo la pista a nord a sud da tutte le parti e convocavano nel gran posto i proprietari dei canti allora uno dopo l'altro tutti i proprietari cantavano il loro pezzo di orme dell'antenato sempre nella sequenza esatta inferdire l'ordine dei versi era un delitto di solito veniva punito con la morte sfido dissi sarebbe l'equivalente musicale di un terremoto peggio disse accigliandosi sarebbe distruggere l'intero creato un gran posto ovunque fosse era il punto d'incontro di altri sogni perciò ai tuoi corrobori partecipavano magari quattro clantotemici diversi appartenenti a varie tribù e tutti si scambiavano canti danze figli e figlie e si concedevano diritti di passaggio reciprochi vedete quindi com'è complessa ma com'è affascinante la storia degli aborigeni australiani che nelle vie dei canti Chatwin ci descrive così bene nel panorama della letteratura internazionale di viaggio sono influenti anche le speculazioni sulla tendenza dell'uomo naturale al nomadismo e libri quasi antropologici come uno degli ultimi di Chatwin che ci faccio qui o anatomia dell'iriquietenza restando in tema di letteratura di viaggio Paul Theroux è sicuramente un altro nome da ricordare un americano del Massachusetts che ha scritto molti libri scritti proprio in prima persona della sua vita avventurosa e tra i suoi libri più celebri c'è sicuramente questo Mosquito Coast che recentemente è stato poi ridotto per Apple TV in una serie diventata famosa negli Stati Uniti e anche il latino americano Luis Sepulveda è stato un instancabile viaggiatore oltre che un grande scrittore cileno cileno di nascita anche se francese di adozione perché diventerà un esule politico famoso in terra di Francia lui ha viaggiato in lungo il lago per tutta l'America latina e anche nel resto del mondo è stato uno degli animatori degli equipaggi di Greenpeace e i suoi libri trattano svariati argomenti e parlando di viaggio è famoso il mondo alla fine del mondo del 1989 anche se il più famoso in questo ambito è il libro Patagonia Express la fantasia di Sepulveda intrecciata con elementi reali fa quel realismo fantastico quel magico della letteratura sudamericana in questo libro Patagonia Express ci sono varie storie che si intersecano racconti dei gauchi diario di viaggio scenario dell'estremo limite meridionale del continente americano e lui ci spiega in queste pagine i suoi incontri che hanno reso ancora più importante del paesaggio stesso questa sua esperienza umana un altro autore importante americano è stato Bill Bryson che ci descrive ancora anche lui l'Australia in questo paese bruciato dal sole Bill Bryson sapete è un autore divertentissimo se non avete mai letto nulla di lui vi stimolo a farlo perché ha una piacevolezza anche di scrittura impregnata di quell'umorismo che l'hanno anche fatto diventare celebre per la sua autoironia per i suoi aneddoti per quella curiosità che lui ha verso la vita e il mondo e che quindi appunto trasferisce nei suoi grandi libri e poi concluderei con un autore anche questo da me molto amato José Saramagu ne abbiamo parlato diffusamente in altri contri è il Nobel della letteratura portoghese anche lui grande viaggiatore e che ha fatto un libricino Viaggio in Portogallo in cui lui sfida anche lui le convenzioni fa degli itinerari pochi conosciuti e è una specie di guida una guida non solo geografica ma anche sentimentale in un mondo in cui lui riscopre le radici del suo popolo e che trova diciamo in questo libro anche il conforto di chi trova appunto nel viaggio qualcosa di unico e un'esperienza di arricchimento insomma leggere è sempre una buona idea ma soprattutto come abbiamo visto se si leggono libri di viaggio è ancora più entusiasmante perché esistono vari tipi di viaggio e spesso si viaggia senza nemmeno muovere un muscolo soltanto viaggiando con la propria testa con la propria immaginazione chi legge viaggia senza muoversi da casa ma se legge di viaggi allora direi che viaggia addirittura due volte e questo non guasta bene per oggi direi che ho finito qui ci vediamo la prossima settimana giustamente per affrontare gli scrittori italiani di letteratura di viaggio cosa che appunto non non guasterà insomma grazie grazie